Amici, si parla in queste settimane frequentemente di fake news, ma guardate questa testata, il blog delle stelle, dove c'è scritto il primo magazine solo online. Ora questo blog è nato abbastanza recentemente e la prima fake news evidente è questa dizione, il primo magazine solo online. È assolutamente falso che il blog delle stelle sia il primo magazine solo online. Ne esistono tanti altri, sin da lontano 1994, di magazine solo online. Perché i 5 Stelle sono così arroganti da definire un loro prodotto recente, il primo magazine solo online?